bentornati sul canale di davy ragazzi oggi andiamo a vedere il primo incrociatore francese e inizio proprio con lui con il grandissimo vabbè non c'è bisogno che ripeto il nome perché ormai si è capito come lo vado a pronunciare direi di vedere immediatamente le sue caratteristiche allora abbiamo 26700 punti nave completamente sbloccata scappo b e anche gittata artiglieria come vedete il gioco tra l'altro piccola parentesi è stato messo in italiano artiglieria cannoni da 155 danno a che 2002 danno ap 3300 punti tempo di ricarica 12 secondi probabilità incendio 11 per cento gittata 15 chilometri per quanto riguarda i siluri avremo 4 torrette con 3 tubi a testa tempo di ricarica 84 secondi gittata massima 6 chilometri danno 12233 per quanto riguarda l'antierea avremo 9 manovrabilità velocità massima 33 nodi mimetizzazione saremo spottati a 13.3 da qualsiasi nave nemica e a 7 chilometri da qualsiasi aereo nemico ragazzi cerchiamo di far arrivare il video almeno a 80 mi piace d'ora in poi vi chiederò sempre un minimo di collaborazione per i miei video in più vi ricordo il mio canale twitch lo dico fin da subito canale twitch e pagina facebook li trovate nella descrizione di qualsiasi video se volete seguire le mie live sono live per l'appunto ogni giorno alle ore 15 quindi non potete davvero sbagliare se non vado live lo scrivo su facebook direi di non perdere altro tempo e di andare a vedere questo troion roion l'ho detto alla fine che bella questa nave solo il nome mi sono scordato di nuovo il party contro il damage lì ce l'ho di nuovo normale non ce l'ho premium mannaggia mannaggia buona molto buona Ok mi sono preso paura Devo essere sincero Porca miseria Come erano vicini quei siluri No così non andiamo La facciamo a pincerla Non ce la premevo mai Abbiamo un altro FK Ci rinuncio ragazzi Ci rinuncio Un altro FK Meno male che lui sta andando Con le HE Tra l'altro mi sta anche mancando 4000 Eh fa male 4000 4000 fa male 4000 più incendio Ok iniziamo a virare Perché non possiamo stare A lungo qua La Nikolai Ah si è mossa Finalmente si è attivato il bot A una certa distanza Si attiva evidentemente Si ormai parto Sono prevenuto Perché secondo me Ce ne sono tanti di bot Ce ne sono tanti Ormai non sai più come Non sai fare un report Non sai più come gestirli Ok dai sta bruciando Ok dai sta bruciando Sta bruciando Molto bene Ci serve un altro incendio Ci serve per consolidare I danni Eh ora ti faccio vedere Tu Frex C'è una pagina apposita Per vedere Se sei positivo Insomma Ok Allora Ok possiamo avanzare Avanziamo 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 Mi sa che era Un Una FK Pure lui Avevano Pure loro Incredibile Ne abbiamo un altro Però no mi sa Con la mia Ah no Dico perché vedete In E1 Sembra un FK Sembrava FK ovunque La Nicola E' molto interessante Come Come corazzata Ok dai andiamo Allora ripassiamo Tra queste isole Tra l'altro Noi stiamo Cappando la base Me ne sono accorto Adesso Beh una cosa Positiva Abbiamo solo Il cacciatore Peniere Che sta provando A cappare Tra l'altro Nooo Sta virando Di più Avevo preparato Le AP Apposta Volevo qualcosa In più Buono Ok Poi la devo Cambiare Allora Aspetta Perché comunque Devo tornare Indietro C'è questo isolotto Che non mi permette Di virare Perché altrimenti Lo Uh Aiuto Devo tornare Indietro A dare Una mano Però ripeto C'è il isolotto Che non mi permette Di virare Vai vai Vira 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 Ok così Torniamo Indietro Diamo una mano A quella A quell'incrociatore Siluri Siluri Ovunque Da tutte le parti Una kuma Livello 4 Diamo Dai cavolo Ti è rimasto con 65 Non si può vedere 65 Mancato porca miseria Quella Puma è fortunata Molto fortunata Non riesco a beccare la Puma è incredibile Solo che il video Sì poi magari lo dico anche nei video Sul YouTube Quella Kongo ha ancora tutti i punti vida Tra l'altro Buono 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 Dai che soffre Dai che sta soffrendo Quella cacchio di Puma ancora spara Dai che soffrendo Con le HE Incredibile Quello che sta succedendo È davvero incredibile Ragazzi è incredibile sul serio Dai che qua si è andata Buono 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 Finalmente 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 Eh no Puma Puma è proprio rotto le scatole Alla fine 4 kill No Sì Meno male Ti immagini arriva il Kraken Dai il Kraken Per poco il Kraken Incredibile Per poco Per poco il Kraken Per poco il Kraken 4 kill 109 hit 63 mila danni Una cittadella Siamo arrivati in secondi Brava alla V-170 Complimenti Abbiamo fatto esattamente Un po' di crediti E un po' di esperienza comandante Grazie a tutti